buongiorno e dio ti benedica buona giornata e che la pace del signore ti possa accompagnare oggi e per tutti i giorni di questa settimana amen gloria al signore siamo qui di nuovo per poter continuare a studiare la bibbia in modo particolare studieremo ancora la vita del re ezechia una storia che veramente ci sta dando tanto siamo arrivati già penso un po a 36 o 37 video di questo personaggio quindi c'è tanto veramente che abbiamo potuto imparare ovviamente impariamo da ezechia ma impariamo dalla parola di dio perché non siamo mai usciti fuori da questo da questo metro di misura per noi la nostra guida è la parola di dio e se vogliamo allargarci è la nostra autorità suprema è la nostra luce è il nostro consiglio è il nostro tutto perché sappiamo che la bibbia è stata scritta dallo spirito santo quindi quando noi ci apprestiamo a leggerla a studiarla non stiamo facendo altro che ascoltare la parola proprio di dio quindi il consiglio che viene dal signore quindi anche oggi vogliamo apprestarci a continuare siamo ormai agli ultimi diciamo agli ultimi lezioni gli ultimi studi su questo personaggio perché stiamo arrivando al capolinea diciamo che stiamo per finire e lo studio che faremo questa sera questo giorno questa mattina non so quando è che tu stai guardando questo video però ci concentreremo in un modo particolare nel peccato che ha commesso ezechia dopo che aveva passato dopo che aveva ricevuto delle cose da parte del signore quindi è un argomento molto interessante ti chiedo di stare molto attento leggeremo ovviamente dei versetti e poi li commenteremo insieme innanzitutto vogliamo partire con una preghiera e quindi ti voglio chiedere di chiudere i tuoi occhi e di invocare la benedizione di dio sulla mia e sulla tua vita signore padre santo dio nostro e con immensa gioia che vogliamo ringraziarti ancora una volta per la tua parola perché veramente è stupenda e meravigliosa e abbondante e ricca e dolce come il miele è qualcosa di stupendo e noi vogliamo studiarla vogliamo meditarla e quindi vogliamo pregarti proprio per questo motivo signore ti prego perdona ogni nostro peccato perdona ogni nostra iniquità ti prego lavaci con il prezioso sangue di cristo gesù purifichaci anche da tutti quei peccati che abbiamo commesso inconsapevolmente peccati di superbia di orgoglio di peccati di invidia di arroganza signore perdonaci ti preghiamo con tutto il cuore e poi ti preghiamo di benedirci durante la meditazione di questo studio della tua parola ti prego di guidarci e di parlare al nostro cuore perché noi desideriamo ricevere una parola che viene dal cielo quindi guida tu ogni cosa e benedici tutti coloro che ascolteranno questo studio te lo chiediamo tutti insieme nel nome di gesù amen amen se vogliamo se volessimo dare un titolo a questo studio lo chiameremo così ostentare la ricchezza il testo che vorremmo approfondire in questa storia si trova nel secondo libro dei re al capitolo 20 i versetti che vanno dal 12 al 21 io ora non li leggerò tutti però puoi farlo tu direttamente e potrai comprendere anche quello che è il contesto in cui ci troviamo e poi vogliamo entrare un po' nel vivo di questa meditazione l'ultimo studio quindi riportato nella bibbia riguardo proprio alla vita di ezechia non è proprio positivo come ho detto nell'introduzione anzi illustra in un modo minuzioso la grande follia del re che si vantò delle sue ricchezze con alcuni ambasciatori che erano arrivati da babilonia in modo particolare in questo in questa storia viene enfatizzato il peccato di superbia un peccato invisibile un peccato che non vediamo con le nostre mani con i nostri occhi ma si percepisce a livello spirituale un peccato sottovalutato ma assolutamente letale non ho sbagliato il termine letale lo sai perché? perché fu lo stesso peccato che condannò per l'eternità all'epoca lucifero l'angelo di luce che oggi noi chiamiamo e conosciamo per satana il diavolo il nemico delle anime nostre ti leggo un testo che si trova nel libro del profeta Isaia dal capitolo il capitolo 14 ti leggerò i versetti che vanno dal 12 al 15 che parlano proprio di questo personaggio e di questo peccato letale dice così la parola di Dio come mai sei caduto dal cielo o lucifero figlio dell'aurora come mai sei stato gettato a terra tu che atterravi le nazioni tu dicevi in cuor tuo io salirò in cielo innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord salirò sulle parti più alte delle nubi sarò simile all'altissimo invece sarai precipitato nello Sheol nelle profondità della fossa lo Sheol appunto è l'inferno un qualcosa di soggiorno dei morti un qualcosa di tenebroso dove Lucifero è stato cacciato da Dio è Dio che fa queste domande a Lucifero che noi troviamo nella Bibbia ed è Dio che lo ha cacciato dal paradiso dove lui stava e lo ha maledetto per tutta l'eternità perché aveva peccato di superbia ora noi andremo ad analizzare questo peccato nella vita di Ezechia ma dobbiamo stare molto attenti perché è un peccato che ripeto è sottovalutato ma assolutamente letale per ognuno di noi quindi apriamo bene le nostre orecchie il nostro cuore e cerchiamo di comprendere come poterlo evitare la follia di Ezechia è descritta dettagliatamente questo peccato che ha commesso nel capitolo 20 del secondo libro dei re sia lì che lo troviamo anche nel capitolo 39 del libro del profeta Isaia ed è menzionata brevemente anche nel capitolo 32 del secondo libro delle cronache quindi questa follia questo peccato viene descritto nella Bibbia in tre punti in tutti i tre punti dove la Bibbia parla di questo personaggio quindi vuol dire che è un elemento molto importante le scritture dicono che Ezechia dimostrò la sua follia in un tempo ben preciso e il versetto che leggeremo secondo libro dei re capitolo 20 verso 12 dice che Ezechia dimostrò la sua follia in quel tempo dice così la scrittura in quel tempo ossia in un momento ben preciso dove Ezechia aveva avuto successo a livello politico innanzitutto fu il momento in cui Ezechia ebbe successo contro la Siria grazie ricordiamoci sempre grazie all'intervento misericordioso e miracoloso di Dio ora essendo la Siria la nazione più potente del mondo conosciuto di allora essendo un esercito molto potente e forte la vittoria di Ezechia risuonò in ogni parte del mondo e questo è una cosa normalissima poi anche a livello fisico perché questo fu il momento in cui Ezechia fu guarito da un'infermità molto grave mortale potremmo dire e la guarigione fu accompagnata da un segno divino che fece retrocedere il sole per un periodo per un breve periodo quindi abbiamo vedi due successi molto potenti una guarigione dalla morte perché la malattia Dio gli aveva detto che era per la morte ma la preghiera di Ezechia toccò il cuore di Dio che lo guarì e gli diede 15 anni di vita e quindi ci troviamo in un momento di forte emozione forti successi potremmo chiamarli ma non sono successi perché Ezechia non ha fatto niente per meritarsi tutto ciò ha solamente pregato però sono arrivate queste benedizioni in quel tempo proprio come dice la scrittura in quel tempo quindi a livello politico a livello fisico ma anche a livello mondiale è successo qualcosa di straordinario perché fu un momento di grande attenzione per Ezechia che grazie alle sue grandi imprese era diventato famoso famoso sì le scritture dicono che in secondo cronaca 32 capitolo 32 verso 23 dicono che Ezechia da allora acquistò prestigio agli occhi di tutte le nazioni ed ancora ti leggo un altro verso che si trova in secondo re capitolo 20 verso 12 in quel tempo Berodac Baladan figlio di Baladan re di Babilonia mandò una lettera e un dono a Ezechia perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato ecco vedi stanno arrivando queste cose una dietro l'altro ma ancora un altro versetto secondo cronaca capitolo 32 versetto 31 dice che i capi di Babilonia gli inviarono dei messaggeri per informarsi del prodigio che era avvenuto nel paese cosa potremmo dire dopo aver visto questo scenario un momento glorioso un momento stupendo meraviglioso sì è vero ma un momento che si trasformò in un'occasione pericolosissima a causa della sua superbia perché come scritto in secondo re capitolo 20 verso 13 Ezechia diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose l'argento l'oro gli aromi gli oli finissimi il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse l'oro quindi vedi cosa ha fatto Ezechia riceve questa bella visita riceve questi doni inizia a montarsi un pochettino alla testa e anziché stare in guardia cosa fa? abbassa la guardia ed ecco che quando Ezechia ma anche noi abbassiamo la guardia come non so se tu segui il pugilato io non lo seguo però so una cosa che quando l'avversario abbassa la guardia io posso colpirlo in faccia e farlo cadere a terra e dargli il KO e questo è quello che stava succedendo perché attraverso la poca intelligenza la poca saggezza di Ezechia che abbassò la guardia ed ecco che gli arrivò un pugno dritto in faccia e quale fu la conseguenza di questa sua scelta di questo suo peccato? lo troviamo nel verso 31 del capitolo 32 di seconda cronache dice così la scrittura ascolta bene questo versetto Dio lo abbandonò lo rileggo Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che egli aveva nel cuore Dio lo abbandonò io ho clonato una frase e te la voglio condividere quando il mondo le persone intorno a te vogliono esaltarti e onorarti devi stare molto in guardia perché la popolarità mondana è pericolosa la popolarità mondana è pericolosa quando il signore ti benedice stai molto attento e non abbassare mai la guardia perché nel momento in cui abbasserai la guardia il nemico entrerà con un destro con un diretto che cercherà di stordirti buttarti a terra e metterti a K.O questo è ciò che stava per succedere ad Ezechia nei prossimi video andremo ad analizzare le cose poi è successo dopo quindi rimani attaccato a questa playlist rimani attaccato a questo studio perché quello che succede dopo scopriremo delle cose veramente interessanti spero che il messaggio ti sia arrivato stiamo attenti non inorgogliamoci non ci insuperbiamo e ogni qualvolta che ci accostiamo a Dio chiediamo perdono dei nostri peccati anche quelli invisibili quelli inconsapevoli come superbia arroganza invidia gelosia ira chiediamo perdono a Dio chiediamo che il sangue di Gesù Cristo possa lavarci e purificarci Amen Dio ti benedica buona giornata e che la pace di Cristo ti accompagni anche oggi grazie a tutti 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 grazie a tutti